Il dottor Paolo Quaresima, laureato in agraria, è il responsabile del settore produttivo dell'impresa agricola Quaresima. Dottor Quaresima, ci può raccontare come nasce la sua azienda e come si struttura e come è adesso? L'impresa agricola Quaresima nasce dal 1973 dai miei genitori, è stata fondata dai miei genitori e nasce come allevamento di bovini da carne, soprattutto razze italiane, razze marchigiane. Poi si è evoluta nel tempo con il nostro ingresso dove oltre all'allevamento dei bovini che non erano più di razza marchigiana ma erano animali di razze francesi, anche con l'allevamento di maiali che in questo caso sono di nostra produzione, cioè compriano l'intero ciclo all'interno del nostro allevamento, nascono e quindi vengono allevati e dopodiché c'è stato adesso come un'ulteriore fase di incremento, di sviluppo, anche la produzione di ortaggi e di prodotti frutticoli. Grazie a tutti!